Ecco, vorrei andare un po' controcorrente e sfatare uno dei miti più blasonati. Correre non fa dimagrire. Nonostante la corsa porti enormi vantaggi al nostro organismo, il dimagrimento non fa parte di questi. Se volete perdere chili in più, svolgere ore di corso tutti i giorni non è il metodo più adatto. Anzi, correndo andrai a infiammare specialmente le gambe, aumentando la presenza di ritenzione cellulite, essendo anche queste di origine infiammatoria. Se vuoi perdere chili in più, velocemente raggiungi un aspetto fisico più asciutto e tonico, il mio consiglio è quello di utilizzare metodologie che uniscono l'allenamento muscolare a sedute di cardio da dantura costante, per intenderci la camminata a passo svelto, con meno frequenza settimanale. Questo massimilzerà i risultati e ti permetterà di bruciare più grasso anche a riposo. E questa è anche la strategia che attuiamo con tutte le nostre ragazze del Team Boutique.